Qual è la posizione di Luigi Abate? Luigi Abate è stato eletto in opposizione e dopo aver presentato la mozione di sfiducia al sindaco il 3 febbraio ha deciso di non firmare insieme agli altri 16 consiglieri perché mi sembrava un atto di ipocrisia. Volevano intestarsi, loro che hanno amministrato con Rinaldo Melucci per 7 anni, la liberazione di Taranto. L'ipocrisia del Partito Democratico e di altri settori del centro-sinistra non ha limiti, manovrati peraltro da quello che vuole essere il burrattinaio politico che domina Taranto, Michele Emiliano. Li ho mandati tutti a quel paese, non ho firmato e ho fatto saltare il bancuro. Con Mario Turco già pronto, con la tavola politica imbandita, per diventare il nuovo sindaco di Taranto, per candidarsi sindaco di Taranto. Chiariamo la mia posizione. Io sono un soggetto che sono nato politicamente civico, trasversale ai partiti al centro-destra e al centro-sinistra. Sono nato civico, resto civico e sono pronto ad aprire un dialogo civico, civico né centro-destra né centro-sinistra, con altri soggetti civici. E a livello locale, e a livello nazionale. Il futuro di Taranto e il futuro in genere di chi vuole una politica diversa è il civismo. Essere liberi, perché se io decido di dare la fiducia o sfiduciare X, Y e Z, lo devo fare, perché deve essere una mia decisione, basata sulle esigenze del territorio, ma non perché Fratelli d'Italia me lo sta imponendo, Forza Italia me lo sta imponendo, il Partito Democratico me lo sta imponendo e così via. Allora, il mio è un progetto civico, Taranto senza Ilva esiste, il mio movimento, quello che io ho fondato. Questo movimento, insieme ad altri movimenti, è giusto che facciano fronte comune. E a livello locale, è a livello nazionale. Per essere liberi, per autodeterminarci, perché Taranto deve essere dei tarantini, ma non il consigliere deve prendere gli ordini da Bari, gli ordini da Lecce. E allora, se si fa un discorso civico trasversale, è a livello locale, è a livello nazionale, a precise condizioni di libertà assoluta dal centro-destra e dal centro-sinistra, io ci sono. Questa è la mia posizione. La dico, l'ho detta già decine di volte, però, come dicevano i latini, repetita iuva, è meglio precisare il concetto. Un civismo locale, che punta a diventare civismo anche nazionale, unendosi in un discorso però più grande, regionale, diciamo nazionale, che esula, che esorbita, che supera la dimensione locale, e si fanno alleanze tra realtà civiche, a livello nazionale e, come detto, a livello locale. Penso di essere stato non chiaro, ma chiarissimo. Tutto potete dire sul mio conto, ma non che io sia una persona incoerente. Ripeto, civico sono nato, civico sono e civico voglio morire. Trasversale al centro-destra e al centro-sinistra. Non prendo ordini da nessuno, come invece fanno i partiti del centro-destra, gli aderenti ai partiti del centro-destra e gli aderenti ai partiti di centro-sinistra. Benvengano allora quei soggetti, quei consiglieri che spezzano le catene, anche le catene di Emiliano, e si proclamano liberi per autodeterminare il futuro di Taranto.